Il risultato di Brian Mascenti ed è il miglior risultato sino a questo momento quindi si porta al comando della classifica provvisoria e al via adesso abbiamo Celtic Fire e il cavallo di Matteo Giunti al numero 9 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti